Asilo nel Bosco una scuola che insegna stando all'aria aperta e che ha creato un approccio pedagogico a 360 gradi. Questo metodo educativo, ha preso spunto da diversi metodi pedagogici tra i quali, Montessori, Agazzi, Rousseau. Ed è riuscito a realizzare un proprio metodo educativo, che possiede diversi punti in comune tra i metodi sopraccitati. Il metodo promosso dal suo fondatore, incoraggia l'ascolto dei bambini e personalizza un apprendimento adattandolo all'opinione dei propri alunni. La scuola Asilo nel Bosco, cerca di rendere l'apprendimento un processo felice e cerca di stimolare la curiosità e la voglia di sperimentare nei propri alunni. Insegnando ai propri studenti a non avere paura, in questo modo insegna l'amore verso il mondo e la conoscenza. Asilo nel Bosco, una realtà formativa che mostra un approccio educativo, che incoraggia l'apprendimento attraverso l'osservazione della natura ma che non si chiude al mondo tecnologico. Insomma unisce il benessere psicologico, l'apprendimento attivo e l'uso attivo della tecnologia. Capendo che quest'ultima, è solo uno strumento, che può aiutare se viene usato coinvolgendo i bambini. In fondo, siamo immersi dentro la tecnologia, e di questo bisogna prenderne atto. Le realtà educative, che mettono al centro della formazione il bambino, non possono che cercare di unire il benessere psicologico dei bambini ad un uso consapevole della tecnologia. Il messaggio che la scuola asilo nel Bosco, tramanda ai propri alunni, è un messaggio inclusivo. Dove nulla è escluso, infatti la natura non esclude il progresso tecnologico. E penso che questo, dovrebbe essere l'assioma educativo della scuola. Dove l'inclusione e l'uso consapevole incoraggiano la conoscenza e non si chiudono davanti alle novità. Penso che il messaggio della scuola asilo nel Bosco sia una bellissima lezione che i bambini porteranno con loro. Amare la natura ed il suo contatto non significa escludere aspetti della propria quotidianità, oppure chiudersi al progresso tecnologico. Non importa solo cosa si fa ma come viene usato lo strumento e con quali finalità. Sotto troverete, la pagina degli eventi o corsi che la scuola asilo del Bosco propone in giro per l'Italia. Eventi asilo nel Bosco.